Sono gli ultimi momenti terreni di Gesù, dolore e morte che preludono ad una vita destinata a un avere mai fine. Il mistero che si celebra e gli eventi che si rievocano durante il triduo pasquale, dal giovedì santo alla veglia di sabato, passando per la passione del Signore e la Via Crucis del venerdì, rappresentano il culmine dell'anno liturgico, un tempo in cui la musica sacra, nei modi più solenni, esprime l'abisso che può raggiungere Dio per amore dei Suoi figli. Quest'anno i canti che scandiscono i riti del triduo eseguiti dalla cappella musicale Pontificia Sistina per accompagnare le celebrazioni papali presentano numerose novità, in armonia con le sfide proposte dalla riforma liturgica introdotta dal Concilio Vaticano II. Il repertorio della tradizione entra in dialogo con la cultura contemporanea, arricchendosi ulteriormente grazie al lavoro di ricerca compiuto da Monsignor Massimo Palombella, direttore della cappella musicale Pontificia Sistina, che abbiamo incontrato al termine delle prove eseguite nella Basilica Vaticana. Chi fa il mio lavoro ha un accesso fluido, vogliamo chiamarlo così, al fondo musicale presente nella Biblioteca Apostolica Vaticana, che è il fondo musicale forse più grande del mondo per quanto concerne la musica del XV e XVI secolo e poi anche avanti. Il Concilio mi ha chiesto un intelligente e fecondo dialogo con la modernità. Nella modernità ci sono anche gli studi scientifici, c'è anche la ricerca, c'è il sentire come ci si è emossi da questo punto di vista. E noi abbiamo questa enorme responsabilità in qualche modo di essere esemplari su alcune celebrazioni del Papa, hanno una loro esemplarità. Quest'anno i riti del Triduo Pasquale si arricchiscono di esecuzioni e brani inediti, frutto di un lavoro di ricerca compiuto in sintonia con la riforma liturgica del Vaticano II, allo scopo di valorizzare ulteriormente il patrimonio inestimabile della tradizione musicale della Chiesa. Ecco, messa a Crismale, 450 anni dalla nascita di Monteverdi, quest'anno penso non c'è una, messa a Crismale non ha un affrattorio specifico, allora che cosa ci è parso opportuno anche consultandomi, mettiamo un pezzo di Monteverdi, allora l'offrattorio sarà il cantante domino di Monteverdi ma è vinto dalla stampa antica, quindi con tutti i color mino, con tutto ciò che emerge dalla grafia rinascimentale, venerdì santo, la Via Crucis vedrà due pezzi molto interessanti, uno mai inciso ad esempio, Ado amus te criste di Orlando di Lasso e poi alla fine, come pezzo finale, Vere languores nostros di Tommaso Ludicola Vittoria, sempre tratto dalla prima stampa dell'ufficio per la settimana santa, un mottetto dove con la particolarità, con la particolarità che la voce del cantus del ragazzo non la faranno i ragazzi ma la faranno due falsettisti in conformità con la prassintica. Nel lavoro compiuto dal maestro direttore della cappella musicale Pontificia Sistina e dai suoi collaboratori risuona lo spirito autentico della tradizione cristiana che riannoda il passato al presente, aggiornando le proprie forme celebrative in ascolto dei segni dei tempi. Se io continuo a cantare la polifonia disattendendo le fonti, disattendendo tutto ciò che quella precifica grafia ci comunica, magari anche in forza della fedeltà a una pseudo antica scuola, ma io tradisco il concilio. Il giorno in cui il triduo santo di un anno sarà esattamente uguale a quello dell'anno precedente, io devo cambiare lavoro perché non ho più voglia di studiare e io che non studio più significa che la cappella musicale non studia più e significa che lentamente, cioè la ripetizione senza più ricerca dice intrinsecamente lo slittamento verso il dilettantismo e la sciatteria.